In seguito di Padre Patro fu secularizzato da Monsignor de Briam, Arcivescovo di Senza Cardenale dell'Omini, che ne fece uno dei propri grandi vicari affendandogli l'amministrazione dei suoi numerosi benefici. È l'epoca della rivoluzione, benché di opinioni politiche apposte a quelle dell'Arcivescovo il Padre Patro fece. Tuttavia, grandi sforzi per salvare il prelato e provò ad intercedere presso Danton, che era suo conterraneo. Ma non ottenne nulla, e si crede che fu lui a rendere al Cardenale in favore dei procurari alla minera degli antichi, e vogliono con cui si diede la morte per sottrarsi al battivolo. Napoleone conservava un'immagine, confusa di piccigro. Lì era rimasto impreso che era di alta statura, con qualche cosa di rosso neviso. Al contrario, Piccigro sembrava aver conservato un vivo ricordo del Giovanni Napoleone. Quando Piccigro abbracciò il partito del re, interrogato, si se potessi immaginare di guadagnare alla cosa i generali dell'Armata d'Italia, rispose, non perdete tempo, l'ho conosciuto da ragazzo, devi essere un carattere inflessibile. Ha abbracciato un partito, lo seguirà fino in fondo. L'imperatore ride molto di tutti i racconti e di tutti gli aneddoti attribuiti alla sua adolescenza. Nella folla di pubblicazioni equiegli ha dato occasioni e non ne conferma nessuno. Ecconi però uno che ammetti a proposito della crescima che ha ricevuto alla scuola militare di Parigi. Al nome di Napoleone, arcivescovo manifestò la propria sorpresa, non conoscendo un santo con questo nome nel calendario. Allora il ragazzo rispose con protesta di spirito che questa non poteva essere una buona ragione, perché c'è una folla di santi in solo trecentosante cinque giorni nell'anno. Napolio non aveva mai la sua festa di onomastico prima del concordato. Il suo santo patrono non esisteva infatti nel calendario francese e vi era anche incertesa sulla data precisa. Così per una cortesia attenzione del Papa venne fissato il 5 agosto, giorno al tempo stesso della nascita dell'imperatore e del fermo del concordato. Nel 1784, Napoleone fu uno dei prescelti nel concorso annuale di Briani per completare la propria educazione alla scuola militare di Parigi. La scelta era fatta ogni alo da un ispettore che visitava le dodici scuole militari del regno. L'incarico era affittato al cavaliere del caraglio. Ufficiale generale, autore di un libro di tettica, era stato precettore del re di Baviera che nell'infanzia aveva il titolo di duc de Dupont. Era un vecchio amabile e adatto a questo compito amava i Giovanni, scerzava con loro dopo averli esaminati e tratteneva volentieri al pranzo alla tovola dei frati menimi quelli che lì erano ciò piaciuti. Aveva un particolare affezione per il Giovanni Napoleone e lo spronava in ogni modo agli studi. Lui che lo viò a Parigi, sebbene non avessi forse l'età ricetta. La ragazza era forte soltanto in matematica ed i monaci pensavano che sarebbe stato opportuno aspettare l'anno successivo, così avrevi avuto il tempo di approfondire di più le altre materie. Il cavaliere del Keralium non voleva ascoltare ragioni e disse «So quel che faccio, se passo sopra le regole, non è certamente per favorire la sua famiglia, io non lo conosco, ma sapere lui stesso perché scorgo in lui una scintilla che non verrà mai avvenzata alimentata». E il buon cavaliere morì poco dopo mai il suo successore del Regneau, che non avrebbe probabilmente avuto la stessa perspicacchia. E seguì fedelmente le sue istruzioni e il Giovanni Napoleone fu mandato a Parigi.